La Commissione europea ha apertamente criticato Twitter per aver abbandonato il codice di condotta volontario contro la disinformazione online, lanciato inizialmente nel 2018, che oggi conta 44 firmatari, tra cui Microsoft, Google, Meta e TikTok. Il social network di proprietà di Elon Musk è l'unica grande piattaforma online a non farne parte, una decisione che sicuramente non è passata inosservata a Bruxelles. La scelta di uscire dall'accordo rientra nell'ampia serie di riforme strategiche di Twitter decisa dal nuovo proprietario. In questo modo il popolare social network sarà esente anche dalle regole di etichettatura dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, appena annunciate dalla commissaria ai valori e alla trasparenza Vera Jurova. L'obiettivo è rendere identificabili per gli utenti testi e immagini prodotti dall'intelligenza artificiale, contribuendo così a combattere la disinformazione. La Commissione vuole il sistema di identificazione operativo al più presto, mentre viene discusso l'AI Act, il quadro normativo sull'intelligenza artificiale. Grazie. Grazie. Grazie.